Come tutti sapete ho deciso di candidarmi sindaco a Taranto con il movimento Taranto senza Ilva in modo assolutamente trasversale ai partiti né centrodestra né centrosinistra né Movimento 5 Stelle. Certamente il problema ambientale è il cancro dei cancri di questa città ma esistono altri problemi, tanti altri come quelli inerenti alla vivibilità urbana, ai lavori pubblici. Ci troviamo nello specifico in Viale Liguria, un'arteria importante, commerciale, già ho delle riserve sulla opportunità di aver realizzato qui la pista perché restringe ancora di più la carreggiata. Ma questo è da considerare, è un altro discorso, certamente diventa un problema in più per i commercianti. Vedete io sono a favore delle piste ciclabili ma laddove si possono realizzare come dimostrano tante realtà europee non è come il formaggio che si butta così a casaccio sui maccheroni. Si mette, si fa la pista ciclabile laddove è possibile realizzarla, laddove è logico realizzarla. Ma la cosa più grave è proprio il modo in cui sono stati realizzati questi lavori in modo pedestre. Basta un po' di pioggia, basta un po' d'acqua ed ecco che la pista ciclabile si trasforma in un lago, in un fiume. Una cosa davvero oscena, vergognosa. Stiamo parlando di lavori che sono stati compiuti ovviamente con i soldi comunali. E quando parliamo di soldi comunali parliamo di soldi del cittadino contribuente, parliamo dei soldi che escono da queste tasche. Ecco il fallimento amministrativo dell'amministrazione Melucci. Lavori pubblici fatti scappando e fuggendo per fare propaganda elettorale, per gettare fumo in faccia ai cittadini, per ubriacarli. Tra virgolette poi la qualità è scadente. È infima come questa pista ciclabile allagata dimostra. Ecco, ci interrompe un cittadino che vuol dirci qualcosa. È proprio sbagliato questa pista ciclabile qua. Il commercio non sta lavorando più, le macchine non possono parcheggiare e sta morendo la città. Arrivederci e grazie. Ecco, questa è la voce del cittadino. Ma io da sindaco chiamerò gli uffici comunali, viabilità, lavori pubblici, a eseguire controlli periodici sulla bontà, sulla qualità dei lavori stessi. Perché, ripeto, sono soldi del cittadino contribuente. Faremo sì che gli uffici comunali siano, come dire, sempre attivi. I vari funzionari compiano continui, continui, continui sopra luoghi. Perché uno scempio del genere non è ammissibile. Vogliamo un'altra Taranto, una Taranto diversa, una Taranto senza Ilva, una Taranto che ascolti la voce dei cittadini e ascolti il cittadino contribuente. Non si va dal cittadino contribuente solo a chiedere il pagamento delle tasse. Bisogna offrirgli servizi, servizi all'altezza, non come questo scempio della pista ciclabile in Viale Liguria. Mi sono spostato di qualche metro rispetto a via Liguria. Sono infatti in via Salento, quasi ad angolo. Vedete, non solo si allaga la strada, ma prima di fare la pista ciclabile non ci si è degnati neanche di rifare o di aggiustare il manto stradale che ospita la pista. Guardate, lavori fatti con i piedi. Non è possibile fare una pista ciclabile e tenere questo schifo. Guardatelo. I ciclisti quando camminano cosa devono fare? Devono cadere? Sindaco Melucci, ma come hai amministrato Taranto? Come hai amministrato Taranto? Vogliamo una Taranto diversa e da sindaco sarà una Taranto diversa. I lavori pubblici sono l'essenza della vita di una città. La loro qualità prima di tutto.